Buonasera a tutti, sono quasi le 8 di sera di mercoledì 8 settembre 2021. Siamo qui questa sera per il gioco pronostici delle qualificazioni mondiali. Partiamo subito. Albania-San Marino ho pronosticato 1 più over. Bielorussia-Belgio ho pronosticato 2 più over. Galles-Estonia un bel pareggio, ci può stare. Grecia-Svezia 2. Nord-Irlanda-Svizzera, credo che vincerà la Svizzera ma per scaramanzia, visto che la Svizzera ci tallona nel nostro girone dell'Italia, spero che esca un pareggio. Islanda-Germania 2. Italia-Lituania, ovviamente dovrebbe essere una partita facendo i dovuti scongiuri molto facile, quindi 1 più over. Kosovo-Spagna, dovrebbe vincere la Spagna ma ci potrebbe essere anche una sorpresa. X2 ho pronosticato. Polonia-Aghilterra X, un po' azzardato questo forse. Ungheria-Andorra 1. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo se volete dopo le partite. Aspetto tanti commenti per i risultati giusti. Speriamo di averne indovinati tanti. Buona serata e buona cena.